È stata firmata una convenzione tra Comune di Pisa e Fondazione Cassa di Risparmio per un'operazione da 910.000 euro interamente ricoperta dalla Fondazione che vede il recupero di una zona della città, quella che va da Porta a Mare fino al centro della città passando per via Bixio. Una zona caratterizzata da sporcizia e degrado. Questo è un punto particolarmente importante, pieno di storia, quindi diventeranno visibili nella loro importanza, sarà dato un segno di novità abbattendo tutte le strutture posticce che sono state costruite addossate alle mura, ripulendo tutto, perché questo è diventato un posto via via dove si è accumulata sporcizia o presenze di un certo tipo, come si sa. Intanto abbiamo fatto questo lavoro sulla rotonda, sui giardini, sulla pista ciclabile, insomma tutta l'area che collega Porta a Mare con il centro storico tramite via Bixio è stata già rinnovata notevolmente. Poi verrà il momento delle mura fra via Bixio e via Battisti alla fine del progetto Sesta Porta. E i lavori dovrebbero terminare entro aprile 2013.